questo podcast contiene i sermoni della chiesa evangelica breccia di roma serviamo la città di roma e tramite essa l'italia in modo regale sacerdotale e profetico affinché la parola di dio faccia breccia per trasformarla buon ascolto lo 8 se non avete la bibbia con voi ascoltate la lettura di questo splendido capitolo della parola di dio proverbi capitolo 8 la saggezza non chiama forse l'intelligenza non fa udire la sua voce essa sta in piedi in cima ai luoghi più elevati sulla strada agli incroci essa grida presso le porte della città all'ingresso e negli androni e dice chiamo voi o uomini nobili la mia voce si rivolge ai figli del popolo imparate o semplici l'accorgimento e voi stolti diventate intelligenti ascoltate perché dirò cose eccellenti le mie labbra si apriranno per insegnare cose rette infatti la mia bocca esprime la verità le mie labbra detestano l'impietà tutte le parole della mia bocca sono conformi a giustizia non c'è nulla di ambiguo o di perverso in esse sono tutte rette per l'uomo intelligente giuste per quelli che hanno trovato la scienza ricevete la mia istruzione anziché l'argento e la scienza anziché l'oro scelto poiché la saggezza vale più delle perle tutti gli oggetti preziosi non la equivalgono io la saggezza sto con l'accorgimento e ho trovato la scienza nella riflessione il timore del signore è odiare il male io odio la superbia l'arroganza la via del male la bocca perversa a me appartiene il consiglio e il successo io sono l'intelligenza a me appartiene la forza per mio mezzo regnano i re e i principi decretano ciò che è giusto per mio mezzo governano i capi i nobili tutti i giudici della terra io amo quelli che mi amano e quelli che mi cercano mi trovano con me sono ricchezze e gloria i beni duraturi e la giustizia il mio frutto è migliore del loro fino il mio prodotto vale più dell'argento selezionato io cammino per la via della giustizia per i sentieri dell'equità per fare ereditare ricchezze a quelli che mi amano e per riempire i loro tesori il signore mi ebbe con sé al principio dei suoi atti prima di fare alcune delle sue opere più antiche fui stabilita fin dall'eternità dal principio prima che la terra fosse fui generata quando non c'erano ancora bissi quando ancora non c'erano sorgenti rigurgitanti di acqua fui generata prima che i monti fossero fondati prima che esistessero le colline quando egli ancora non aveva fatto nella terra nei campi né le prime zolle della terra coltivabile quando egli disponeva i cieli io ero là quando tracciava un circolo sulla superficie dell'abisso quando condensava le nuvole in alto quando rafforzava le fonti dell'abisso quando assegnava al mare il suo limite perché le acque non oltrepassassero il loro confine quando poneva le fondamenta della terra io io ero presso di lui come un artefice ero sempre esuberante di gioia giorno dopo giorno mi rallegravo in ogni tempo in sua presenza mi rallegravo nella parte abitabile della terra trovavo la mia gioia tra i figli degli uomini ora figlioli ascoltatemi beati quelli che osservano le mie vie ascoltate l'istruzione siate saggi e non la rifiutate beato l'uomo che mi ascolta che veglia ogni giorno alle mie porte che vigila alla soglia della mia casa chi mi trova infatti trova la vita e ottiene il favore del signore ma chi pecca contro di me fa torto a se stesso e tutti quelli che mi odiano amano la morte vogliamo pregare signore mentre ci avviciniamo di nuovo alla tua parola chiediamo la direzione il sostegno dello spirito santo affinché quello che leggiamo e ascoltiamo da parte tua non entri solo nelle orecchie ma raggiunga i cuori e cambi la vita per l'onore e i meriti del signore gesù cristo amen il mazzo di carte che ho in mano ha 40 carte sono tutti di colori diversi e di segni e figure diverse però non tutte le carte sono uguali infatti c'è una carta tra le 40 che è l'asso e che è la più importante di tutto il mazzo da questa carta dipende la vittoria non c'è una carta superiore a questa ce ne sono tante ma c'è una carta che vale più di tutte in un certo senso la vita è come un mazzo di carte che dio ci dà affinché giochiamo la vita partecipiamo alla vita con le carte che dio ci ha dato tutte le carte sono importanti ma alcune lo sono di più di altre tra tutte le carte della vita la sapienza è nei proverbi considerata come l'asso ci sono tante benedizioni nella vita tante qualità tante possibilità tanti doni tante opzioni ma la sapienza è l'asso della vita e chi ce l'ha vince chi non ce l'ha può avere tutte le altre carte ma alla fine perde puoi avere altre carte colorate ma senza l'asso della sapienza non vince addirittura in questo capitolo la sapienza è paragonata ad un tesoro che ha un valore inestimabile e addirittura è paragonata alla vita stessa questo capitolo ha un sapore biografico chi lo ha scritto lo ha scritto salomone un giorno ci dice un altro testo biblico seconda cronaca è uno dio apparve a salomone e gli disse salomone guarda queste carte che io ti metto davanti c'è la ricchezza c'è il potere c'è la scienza c'è la fama scegli quale vuoi tra queste carte e salomone disse io voglio la sapienza e lo stesso autore che visse questa esperienza qui riflette su quello che era accaduto perché dio dandogli la sapienza e lui avendo scelto la sapienza dio gli diede anche tutte le altre carte che lui non aveva scelto all'inizio ma che dio gli diede come parte di quello che gli aveva dato dandogli sapienza infatti dio gli disse siccome non hai chiesto né ricchezze né beni né gloria ma hai chiesto sapienza allora ti darò la sapienza e aggiungerò ad essa anche tutte le altre carte le ricchezze i beni e la gloria capite salomone aveva scelto la carta giusta che gli aveva dato accesso a tutto il resto della vita nel capitolo 8 qui la sapienza è legata in modo stretto alla verità alla giustizia alla rettitudine alla scienza il versetto 7 chi ha la sapienza ha anche tutte queste altre cose in più come bonus come qualcosa che viene dato insieme alla sapienza la sapienza non arriva mai da sola non arriva mai a mani vuote non arriva mai senza essere accompagnata da un carico meraviglioso di altri doni è un asso che fa vincere davvero la partita chi trova la sapienza versetto 14 trova infatti il consiglio il successo l'intelligenza e la forza la sapienza arriva sempre carica di benedizioni con la sapienza hai questo ma non basta alla sapienza qui sono associati anche l'oro l'argento le perle gli oggetti preziosi è così grande preziosa meravigliosa che per darle un valore bisogna prendere le cose più importanti e belle per cercare di avvicinarsi a quello che vale la sapienza di dio in altre parole chi ha la sapienza ha tutto quello che è necessario per la vita e ce l'ha in abbondanza se hai la carta giusta hai la partita in mano se hai molte carte che non servono a niente puoi averne decine di carte ma perdi non vale infatti il contrario chi ha la sapienza ha tutto ma chi ha molte carte non ha la sapienza non ha niente in mano chi cerca la gloria senza sapienza chi cerca la ricchezza senza sapienza chi cerca la fama senza la sapienza non trova né l'una e nell'altra è la sapienza di dio che apre l'accesso alle benedizioni della vita le altre carte non aprono niente ma è la sapienza che apre tutto è la sapienza il tesoro che dà accesso a tutte le benedizioni della vita chi ha la sapienza di dio ha tutto e allora se oggi pensi di essere mancante ti ti mancano soldi ti manca una carriera che sognavi ti manca qualcosa che a cui tenevi molto ti manca ancora quello che cercavi ma se tu hai la sapienza di dio se la sapienza ti è stata data se hai la carta della sapienza ebbene hai tutto quello che è necessario per vivere in modo pieno viceversa se pensi oggi di siccome sei arrivato a un certo punto siccome ti aspetti che presto arriverai ad una promozione quindi allora sarai chi pensi di essere ma senza la sapienza di dio sarà una partita persa qual è la carta più importante della tua vita in che cosa stai veramente investendo cosa stai cercando veramente e lo stesso appello del signore gesù nel sermone del monte nel vangelo di matteo chi si preoccupa eccessivamente delle cose di cui vestirsi di cui mangiare di cui atteggiarsi chi si preoccupa di queste cose da queste cose viene dominato e accumula affanni e incertezze chi cerca invece il regno di dio trova tutto ciò che è necessario e gli sarà dato in più perché dio è un dio generoso e quando si trova dio si trova tutto la sapienza di dio è l'asso della vita chi ce l'ha puoi essere non arrivato non eccellente non considera puoi essere tutto avere tante tensioni ancora risolte ma se hai la sapienza di dio hai tutto ciò che è necessario per vivere in modo pieno con quale carte stai giocando la tua vita ti attardi a cercare affannosamente gli scartini le carte che non valgono che valgono poco e stai invece sottostimando la carta dell'asso che dio ti ha dato in mano e che non sai come giocare ti sembra di essere più un ingombro che una benedizione ebbene questo capitolo ci dice di invertire la prospettiva non sono le ricchezze la gloria la fama il successo a riempire la vita è la sapienza di dio che riempie la vita in gesù cristo ci sono tutti i tesori della sapienza dice l'apostolo paolo nella lettera ai colossesi capitolo 2 versetto 3 tutti i tesori della sapienza sono in cristo e se sei in relazione con cristo hai tutto quello che è necessario per vivere in modo pieno sono tanto preziosi tesori che sono in cristo che la loro ricchezza è di un valore incalcolabile come diceva lutero e ora dico una cosa in tedesco come lutero la diceva qualcuno parla il tedesco qui chi ha cristo ha abbastanza è scritto su questa tazza è una frase di lutero chi ha cristo ha abbastanza ma me manca il lavoro ai cristo ma me manca la promozione ai cristo ma a me manca il compazio ai cristo ma me manca il compazio ai cristo chi ha cristo ha abbastanza la seconda parte del capitolo ci presenta la sapienza infatti come una persona l'abbiamo già visto nei capitoli precedenti i proverbi non ci presentano la sapienza come una somma di precetti astratti legati a una qualche filosofia o tradizione di pensiero la sapienza è una persona il nuovo testamento ce lo dice in modo inequivocabile è la persona di gesù cristo che è stata fatta per noi sapienza di dio la sapienza è cristo la sapienza è una persona la sapienza è una persona con cui poter avere una relazione dunque il modo per ricevere sapienza per crescere nella sapienza e per applicare la sapienza divina non è tanto lo studio la ricerca il confronto i paragoni le esperienze umane no è la relazione con la persona di gesù che è la sapienza diventata uomo è così vero che la sapienza è una persona che la seconda parte del capitolo 8 ce la presenta come una persona che racconta quello che ha visto mentre dio padre creava l'universo insieme alla sapienza era con dio era dio e ha partecipato la sapienza alla creazione dell'universo ogni atto creativo i cieli la terra le acque le terre i frutti gli animali la sapienza era con il padre impegnata in questo atto creativo è stata la sapienza l'art director della creazione il direttore artistico della creazione il padre lo spirito santo la sapienza hanno tutti lavorato insieme per creare questa grandiosa opera d'arte e nella creazione la sapienza ha messo tutta la sua esuberanza e gioia nel formare tutto quello che esiste per la sua gloria e per il nostro bene il punto è che gesù sapienza è vivo non stiamo parlando di una somma stratta di principi stiamo parlando di una persona viva che è viva da sempre e che è attiva nella creazione egli è stato creativo e continua ad essere creativo per generare occasioni di vita possibilità opzioni nelle nostre vite lui ha creato tutto lui mantiene tutto e può fare tutto nella tua vita nella mia ed è attivo pieno di vitalità è presente è una sapienza che non è rimasta la ferma ma che continua a mostrare tutta la sua esuberanza non è una roba stratta o distante è una persona che è qui e ora presente con tutta la sua vitalità per chi lo accoglie in fede infatti alla fine del capitolo c'è un invito un invito che vogliamo raccogliere con cui vogliamo concludere al versetto 33 ascoltate la sapienza non la rifiutate la sapienza è l'asso della vita chi ce l'ha può giocare la partita della vita sapendo che alla fine per grazia di dio grazie alla sapienza vincerà puoi avere poche carte puoi avere carte sgualcite puoi avere carte che umanamente sono inferiori a chi ti sta vicino a chi ti sta sopra ma se hai l'asso della sapienza hai tutto e puoi vincere per grazia sua quindi ascoltate la sapienza non la rifiutate perché è felice l'uomo e la donna che incontrano la sapienza e la ricevono come la carta più importante della vita chi accoglie gesù la sapienza incarnata trova la vita versetto 35 trova la vita perché tutto il resto è utile ma non fondamentale tutte le altre carte prima o poi si sciupano si sprecano e non portano mai alla vittoria ma con l'asso della sapienza si arriverà alla vittoria qui non siamo di fronte ad una ininfluente preferenza religiosa per un credo per l'altro o per nessun credo io sono questo io sono quell'altro io credo in questo io credo in quello non è questo è credere in una persona la sapienza incarnata gesù cristo il resto non cambia veramente la vita ma accogliere la sapienza cambia tutto perché se trovi la sapienza scopri la vita chi ha creato la vita è anche capace di fartela vivere chi ha creato la vita è anche capace di aggiustare i cocci che abbiamo rotto chi ha creato la vita è anche capace di rimetterla insieme chi ha creato la vita con esuberanza è in grado di dare esuberanza alle nostre vite spente chi ha creato la vita con gioia e passione è in grado di trasmettere la stessa gioia e passione a noi che viviamo spenti e delusi chi ha creato il mondo come un'opera d'arte è in grado di farti ridiventare un'opera d'arte oggi tutti noi abbiamo in mano il mazzo di carte della vita dio ti ha dato tanto dio ti ha dato tanto ti ha fatto tanti doni tante cose che nella vita hai ricevuto hai compreso accumulato preso fatto esperienza di hai tante carte nella tua vita ma se non hai la carta giusta tutte le carte prima o poi si esauriranno non continuare a vivere con le carte perdenti inutili e anche dannose prendi la carta più importante accogli la sapienza credi in gesù cristo e scoprirai cosa significa vivere con la v maiuscola la vera vita oggi e per sempre vogliamo pregare signore ti ringraziamo per l'asso che cambia la vita che noi non abbiamo meritato ma che c'è stato donato il nostro mazzo era un mazzo di carte sgualcite era un mazzo di carte in bianco e nero era un mazzo di carte che non valevano che valevano poco ma tu ci hai donato la sapienza non l'hai trattenuta ma l'hai donata la sapienza è diventato un uomo che si chiama gesù cristo e chi incontra cristo la sua vita cambia e chi ha cristo ha abbastanza perché in cristo riceve le sue insondabili ricchezze signore ti prego che chi ancora non ha conosciuto cristo come signore come salvatore e ancora si attarda a cercare le carte giuste della vita senza cristo che questa sera tu lo voglia la voglia convincere di peccato e della necessità di aprirsi alla sapienza divina diventata uomo nella persona di gesù cristo e per noi signore che siamo già stati graziati e abbiamo già ricevuto l'asso della sapienza ma forse lo abbiamo nascosto forse l'abbiamo messo dentro il mazzo forse lo abbiamo deprezzato forse lo abbiamo svalutato e pensiamo che altre carte siano più importanti di quella forse siamo diventati così a suoi fatti che non ci rendiamo più conto che chi ha cristo ha veramente abbastanza e che veramente il tesoro non sta nell'accumulo e nella ricerca del nostro successo benessere ma nell'essere in cristo di cristo per cristo con cristo signore ti preghiamo che nella vita che ancora abbiamo davanti la nostra partita non sia una partita perdente non sia una partita piena di rancori non sia una partita piena di rimorsi non sia una vita piena di paure ma sia una vita gioiosa perché l'asso è stato dato e questo asso fa cambiare la partita e la porterà alla vittoria che questo signore sia quanto il tuo spirito voglia fissare nei nostri cuori per l'onore e la gloria del padre e per i meriti della sapienza è incarnata gesù cristo che ha dato la sua vita per la nostra affinché chi crede non sia più alla mercè di sapienze deviate ma viva per la grazie per aver ascoltato questo sermone preghiamo che dio lo usi per la sua gloria e per l'avanzamento del suo regno in italia per altri sermoni e risorse visiti il nostro sito web www.brecciadiroma.it grazie www.brecciadiroma.it